L'allenatore italiano Antonio Conte, attuale comandante del Napoli, ha elogiato in modo enfatico l'inizio di stagione di David Neres, che si è distinto come uno dei principali nomi della squadra. Il giocatore brasiliano, ingaggiato dal club napolitano per rinforzare l'attacco, ha mostrato una prestazione eccezionale, conquistando non solo la fiducia di Conte, ma anche l'ammirazione dei tifosi e della stampa internazionale. Secondo l'allenatore, l'adattamento di Neres allo stile di gioco del Napoli è stato rapido e molto positivo. David è un giocatore estremamente talentuoso e, da quando è arrivato al Napoli, ha dimostrato una grande intensità e qualità nelle partite. «È stato cruciale nel nostro attacco e la sua capacità di decidere le partite è stata impressionante», ha dichiarato Conte in conferenza stampa. L'allenatore ha anche sottolineato l'impegno e la dedizione del giocatore, qualità che, secondo lui, sono essenziali per il successo della squadra nella stagione. Neres, dal canto suo, ha sfruttato bene le opportunità, mostrando un'ottima lettura del gioco e una tecnica raffinata, caratteristiche che sono state fondamentali per il Napoli nelle competizioni nazionali e internazionali. La sua prestazione è stata uno dei punti alti della squadra, che cerca di mantenere la buona forma per continuare a lottare per la vetta della classifica del campionato italiano e per le fasi decisive della Champions League. Antonio Conte, che ha assunto la guida del Napoli questa stagione, ha fatto un lavoro accurato per integrare nuove pedine alla Rosa. E David Neres è stato un esempio chiaro del successo di questa strategia. L'allenatore italiano, noto per la sua disciplina tattica e la capacità di esprimere il meglio dai suoi giocatori, è riuscito a esprimere il massimo dal brasiliano, che promette di essere uno dei pilastri del Napoli nei prossimi mesi.